Eeeh what's up a tutti c'è ormai benvenuti raggio green in questa nuovissima serie su The Quarry Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno green hack è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui ragazzi mi raccomando spolliciate questo primo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 100 like per avere il prossimo episodio So che ce la possiamo fare ragazzi quindi daglie quei like E' incredibile ma vero grandissimo ritorno per me ed il mio canale ragazzi sul genere horror Genere che sicuramente mancava da un po' di tempo Questo gioco è stato votato dalla maggior parte di voi nei sondaggi che ho rilasciato sia qui su youtube che su instagram Vi avevo dato tre opzioni The Mortuary Assistant, Poppy Playtime Chapter 2 e The Quarry Ha vinto appunto The Quarry anche se devo dirla tutta The Mortuary Assistant ragazzi ha avuto diversi voti Per cui molto probabilmente se lo vorrete quando finiremo questa serie giocherò anche quel gioco Lo dico sospirando perché ragazzi non so se vi ricordate ma io non sono neanche riuscita a finire la demo di quel gioco In ogni caso eccoci qua Si tratta di un gioco della Supermassive Games che è la stessa casa produttrice di Until Dawn Until Dawn un gioco che ho veramente adorato tantissimo Del quale appunto ho fatto una serie qui sul canale Una serie veramente epica secondo me ragazzi E' un gioco horror appunto però la cosa bella è che è a scelte Quindi praticamente ragazzi questo gioco racchiude due cose che a me personalmente piacciono tantissimo Sarebbe a dire il genere horror e le scelte E due delle cose che solitamente sono sempre state molto apprezzate appunto qui sul mio canale Cioè sarebbe a dire appunto il genere horror e le scelte Forse è per questo che l'avete votato in tanti Per cui intanto grazie veramente a tutti per aver votato ai sondaggi Quindi io direi di non perdere più tempo ragazzi Indossiamo le cuffie Ovviamente per i giochi horror ragazzi Consiglierei anche a voi di indossarle a vostro rischio e pericolo Perché sapete benissimo che l'urlo è dietro l'angolo Già sta musichetta de menuno Cioè non è che è proprio Bando alle ciance ragazzi Ovviamente lo sto giocando da pc per chi se lo fosse chiesto Ok avviamo una nuova partita E vediamo A cosa stiamo andando incontro Ah Gesù Inizio questi gioco horror e questi giochi horror ragazzi Sempre con un pochettino di Di timore Grazie Che luna signori Sulle mani ragazzi Ok 24 giugno Il giorno del mio compleanno Manca parci apposta Ok non c'è campo Attenzione Perché hai spento Lo sai perché No non credo Dai sforzati un po' Inizia per P Pausa Persi Max ci siamo persi Stiamo solo esplorando il luogo Certo quindi Persi Questo lo dici tu Prendi in considerazione Quanto segue Poiché ti guiderà Attraverso i neandri Che si possono incontrare Durante il soggiorno Ad Hucket's Quarry Ciò che vedi qui Sono i quicktaps O QTE Che ti aiuteranno Ad agire proprio Al momento giusto Ok Sii prudente Hucket's Quarry Può essere un luogo pericoloso Se non fai attenzione A ciò che ti circonda Tieni gli occhi ben aperti Oppure rischierai il disastro La strada da percorrere Dipende da te Ma potrei comunque trovare Ostacoli lungo la via Ok Era un piccolo soggetto Occhio Ooooo Che cosa dovevo fare Ho premuto il cerchio Non sono io che ho preso quella buca Forse la buca ha preso noi Ci hai pensato? Ma Wow Campione mondiale di arrampicata sugli specchi Grazie Davvero notevole Grazie Incominciamo con le battute Pessime Pessime del mondo Ma Max non è un problema Ammetterlo non ti rende meno uomo Se Colombo non si fosse perso Arrivando sulle nostre spiagge Non avremmo gli Stati Uniti d'America Niente hot dog Addio torta di mele Colombo non è mai arrivato in Nord America Che vuoi dire? Pensava di essere in Asia Sul serio? Né solo un altro uomo Che non ammetteva di essersi perso Beh A quest'uomo hanno dedicato una giornata intera E Quindi direi che il caso è chiuso Oh mio Dio Ok basta che arriviamo al campo prima che diventi scema Grazie Ce la faremo Ce la faremo Io sono Cioè Ero un attimo perplessa ragazzi Perché non mi aspettavo Allora Prendi la mappa Assolutamente Voilà Vediamo Guarda la mappa Se ce l'abbiamo Secondo te No davvero Che fine ha fatto la La mappa vera È questa la mappa vera Quella sul telefono Non prende Non c'è campo Non ti pareva Che funzioni Dai Ok Vediamo Sì ma se vi siete già persi Come pretendi di sapere dove siete adesso Da una mappa Messo che i campi estivi non sono sulle mappe Non c'erano cartelli Mamma mia che disastro Ehi Guarda la strada Oddio che era Ah ok Ah è la levetta Cazzo Non è il Il cerchio Oh mio dio Perché cazzo Lo stavi guardando la strada Pezzo di idiota Sì sì Almeno Sono tutta intera Cristo santo Per te cos'era Un orso Non lo so Non si è visto No No Max Non era un orso Allora cosa Penso fosse una persona Quella che era nella nostra mappa Sério Abbiamo investito qualcuno No Non lo so L'hai evitato Ok è stato bruttissimo A parte che Vi ripeto Mentre Stavamo Mi sono giocato la macchina Oddio Magari Non è così grave Devo controllare i danni Prima di provare a riaccenderla Mi prendi la cassetta Nel bagagliaio Sì Sì ok C'era una tizia Nei sedili posteriori L'ho vista Anche se è stato un attimo Oddio Siamo nel nulla Ok Quindi levetta Sinistra Chiaramente Per camminare X Per interagire È follia ragazzi È follia Ok Ok allora Non sembra grave Mia madre Mi amazzerà Che ne capisci te Che ne capisci te Cos'è a caso Non sembra grave Si avvicina Il cofano della macchina Non capisce un cazzo Di meccanica Non sembra grave Va bene Ok Benissimo Quindi Interruzioni Premi L1 Per visualizzare O L2 Interruzioni Che cazzarola vuol dire Non succede niente Se premo L1 O L2 Fruga Ti ha detto Di prendere la cassetta Non cominciare attrezzi Non comincia a guardare Cose random Oh È stato rifiutato All'università Perché non me l'hai detto Oh shit Incominciamo con i segreti Segreti e bugie Attenzione Ecco Grazie mille Grazie mille Prego Ti serve una mano Sì Vedi se riesci a farmi luce qui Ecco qua Perfetto Grazie Per questo Prima ce ne andiamo Meglio è Immagina di stare rannicchiata Di fronte a un Falò enorme Mentre intono i canti del campo Nessuno si rannicchia Se ha davanti Un falò enorme Perché no? Per evitare Di prendere fuoco Allora Immagina di stare rannicchiata Di fronte a una stupa Beh ovunque Meglio di qui Bene C'è qualcosa Fra gli alberi Che ci sta Amorevolmente osservato Va bene Andiamo più a caso Quindi Oh Le 1 Regà Non succede una ceppa Io Devo di Lo devo di Oddio Oh 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 Ma vorresti di che non è L'hai vista Non vorresti di che non l'hai vista Era una cazzo di vecchia In camicia da notte Dove vai? Dove vai? Ehi Non allontanarti ok? Ho quasi fatto Perché Fai presto Fai presto Assolutamente Chi che vuole fare la spavalda Ma non esiste proprio Fai presto Oddio Max Vieni qua Ma perché? Ah Io pensavo in tedesco Fai presto con la macchina Ho paura che ci sia qualcuno là Sei seria? Eh Sì Forse non sta bene Non so Non abbiamo investito nessuno Senti non lo so Ma ho sentito qualcosa Una donna L'abbiamo presa Voglio solo controllare No 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 Non è una buona idea Non è una buona idea Non lo è Non lo è Tu vorresti addentrarti lì Nel buio Nel nulla Nelle profondità Più totali No 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 E invece sì Ci va Ok Ci va Tu pensa alla macchina Ci va da sola Ci va da sola Tra l'altro Ok Sì Sì Va benissimo Le scelte sagge In questa vita Che cosa stupenda Meravigliosa Sono i tarocchi Aspetta Aspetta Perché non l'hai presa Cioè non posso aspettare Ah ecco Ah ok Quindi ogni volta che raccolgo una cosa Premo l1 Per visualizzare Sono i tarocchi Innocenza e libertà O avventatezza E anche imprudenza Spontaneità Agire senza riflettere Con conseguenze Di cui tener conto Pensa Pensa E non ti scottare Esatto Tipo adesso Pensa E non andare In un bosco Di notte Solo perché pensi Di aver visto Una vecchia matta In camicia da notte Chi chi Quale persona Secco perché Er matto Perché te sei matta Quale persona Sana di mente Deciderebbe Di fare una cosa del genere Solo con la torcina Di un cellulare Solo con la torcina Di un cellulare No Non condivido Assolutamente Locandina Di Arum Scarum Questa era Locandina Di uno spettacolo Itinerante Sembra Sia qui Da un bel pezzo Tutta fracica Dimenticata nel bosco Sono segni di bruciature Quelli all'angolo Circo Storie degli Hucket Chissà Cosa significa Tutta sta roba Ragazzi Va bene Quindi a quanto pare Comunque È sempre bene Guardarsi bene Intorno Ragazzi Per Trovare Tutti eventuali Indizi O cose Sbrellucci Cose Io intanto vado Eh boh Destra o sinistra Boh Così estinto Andiamo a destra Salve Non c'è nessuno Qui vero Oddio Che cazzo Di posto È questo Ma che diavolo È infatti Ma che diavolo What the fuck What the hell What the heck Gabbia Il bimbo cane Ma che so Fenomeni Da baraccone Oh Se non premo Subito L1 Non me lo fa Vede Cavolo Era Una gabbia In che era Rinchiuso Una roba Che roba assurda Ma hai sentito Parlare di Frakes Cara mia Gabbia rotta Questa gabbia Fatiscente È stata inghiottita Dal bosco Sembra che un animale L'abbia usata Come tana Ho capito Ma prima Che ci si mettesse L'animale Che roba c'era Lo sa Di ecco Perché il circo Che c'entra Il circo C'era un circo Qui Continua ad andare Oddio 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 Ok È tutto Assolutamente Sotto controllo Tutto Tutto a posto Sì Sono Gli unicorni E le paperette Del bosco Vero Ci sono solo paperotti E Bellissimi unicorni Qua intorno Va bene Vedete È assurdo Ragazzi Cioè Vi rendete conto Ragazzi Di quanto è folle Tutto questo Vero C'è lei che Avanza A caso Nel bosco Di notte Cioè Che in un bosco Già ti ci perdi Di giorno Che c'è? Che c'è? Che c'è? Era lì Era lì Era lì vicino L'albero Era lì vicino L'albero L'ho vista L'ho vista Era una cosa L'ho vista Non la chiamare Non la chiamare Non chiamarla Non la chiamare No No Via 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 Ma chi minchia Te l'ha fatto fare Dico io Mo scappa In preda al panico Sta soccola Ok Scusate Regà Ma se lo meritava Cioè Mo come fa A ritrovare la strada Mo scusatene Come fa Cioè Come hai fatto? Questa Cioè Nel senso Nell'orientamento De Berge E Grills Parlami tutto bene Parlami che ti è successo Timmy C'era qualcosa C'era tipo Si sentivano rumori Dappunto Il tesoro Rispira Tutto che E' Siamo nel bosco C'è di tutto Qui in giro Animali E' normale Spaventarsi Non era un animale Ce ne possiamo andare Non era un animale Non era un animale Ok Ok È stato È stato Assurdo Io l'avevo detto Perché io Quando parlano M'ascolta me Una ceppa De nessuno Sì Ecco qua Senti come gira Max Sbrigati Ci siamo Ci siamo Ce ne devo Ok Lagga a parte Datele un attimo Ragazzi Non è possibile Cazzo Max Ok dammi un minuto Un secondo Dobbiamo andarcene Max Se fai così Non puoi dirmi Voglio solo Andarmene subito Che basta Cazzo Scusa tesoro Oddio Raga Scusami Si è desincronizzato L'audio Non so se è colpa Del mio pc O del gioco È tutto ok Ok Adesso si è rimesso a posto Qui siamo al sicuro Non succederà niente Che cazzo Porca miseria Mi si è fermato il cuore Su abbassi Salve Salve agente Bella serata Vera Sarola ci fa qua Per caso siete feriti Stiamo bene Che ci fa qua Qua sotto Che cazzo Che fa Ma che fa Insomma mi dite Cosa è successo Ma perché lei È qua sotto Scusi Fatemi vedere un attimo Non sto capendo Questo cosa Cosa serve Vabbè Sto elenco De cose Sì È sbucato qualcosa Perché non essere onesti È sbucato qualcosa Siamo finiti fuori strada Ecco Qualcosa È spuntato fuori Davanti alla macchina Abbiamo sterzato Per schivarlo Così Siamo finiti qui È spuntato Qualcosa Sì Era buio Non si è capito Cosa diavolo fosse Ma questo qua Che vuole È stranissimo Mi spiace Era veramente buio Ed è successo Tutto così Fredda E poi è Andato via Avete Investito qualcuno No No Oddio No Certo che no Cioè No Penso Ma raga Cioè Lo so Scusi Ok La tenga accesa Scusi Il poliziotto Sembra nervoso Sì ma Ho detto La verità Non è tipo Il poliziotto Più spaventoso Del mondo Sì infatti Non lo so È il primo Che incontro In tutta la vita Sai non sono Una criminale Ma tra l'altro Cioè noi siamo Finiti in mezzo Al nulla Come c'è arrivato Questo tizio Qua Fatto sta Che c'è Quando investi qualcosa Io per fortuna Non mi ha investito nulla Però Cioè Senti l'impatto Quindi loro Non hanno investito Una ceppa Di niente Ok Almeno ci ha tirato fuori Grazie al cielo Siamo diretti al campo Cioè ma perché Non dire la verità Tra l'altro A parte A parte il fatto Che è un poliziotto Cioè proprio in porta E andiamo al campo Stavamo andando Ad Huckett's Quarry Siamo I nuovi tutor Inizia domani Sì lo sappiamo Ma volevamo venire prima Per ambientarci Sì Sanno che arriviamo E a dirla tutta Uno di noi Ha sovrastimato Il suo senso Dell'orientamento E ci siamo persi Chissà chi Non arriverete Ad Huckett's Quarry No stasera Perché no? A parte perché C'è il collo sporto L'arbinger motel È più vicino Andrete lì per stanotte Ok Io credo Che non ci fermeremo Agente Il signor A che sa Che stiamo arrivando L'abbiamo avvisato No signora Vi fermerete All'arbinger motel Ha capito Cosa ho detto Ma che cavolo Sta succedendo Perché A Resquarry No Scusi eh Con tutto il rispetto Agente Perché non A Ruckett's Quarry Perché vi ho detto Di fermarvi Al motel Ok Non capisco davvero Dove sia il problema Signora Scenda dal veicolo Cosa Spazio in tempo Resta nell'auto Ok 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 Calmati Ok Calmati Ok Stai buono Però se ci sta consigliando Ad andare al motel Un motivo ci sarà Se insiste tanto Va bene Ok Allora Noi Siamo proprio qui Ma chi ho? L'arbinger motel È qui Grazie Quindi dov'era Che scorrì? Beh Sono sicuro Che i ragazzi Dell'arbinger motel Ve lo sapranno Furbo Spiegare domattina Furbo Bene Comunque a sto punto Delle cose Da un lato Non è tanto sbagliato Fermarsi da una parte Penso che già Se sono pure persi Arbinger motel Niente deviazioni Ehi E se ci fosse ancora qualcuno La Darà un'occhiata Buonanotte Sono alquanto Interdetta Ragazzi Cioè questa situazione È stata Stranissima E continua ad essere Stranissima È stato assurdo Perché diavolo Se ne sta fermo lì E perché sta aspettando Che Che tipo strano Cioè sollevata Tra l'altro perché Io non sarei Tanto sollevata Il tizio era un ammasso Di energie negativi E sembrava Non farsi una doccia Dal neolitico Oh mio dio davvero Hai notato Cosa aveva sul collo Sì Era sangue Sì È stato Un piacere Oh mio dio Che ridere Tanto Rido tantissimo Guardate Tantissimissimo Va bene Rimettiamoci In marzo Sì Per questa notte Abbiamo avuto anche troppe emozioni Sono esausta Concordo Dov'è il motel? Ok Noi siamo qui E il motel è qui Ok Ma noi andiamo qui Qui dove? A Catsquarry Come hai fatto? L'ha fregato E mi ha indicato dov'era Astutissima Ma non è vero Sicurano sia meglio Andare al motel E dare retta a quel tipo Tesoro Vuoi davvero dare retta A un poliziotto da brividi In un bosco da brividi Per andare in un cazzo Di hotel da brividi? Se la metti così No Rimettiamoci in viaggio Sono d'accordo Signora Ma non è vero Oh mio dio Giuro Se mi chiamava un'altra volta Signora Gli ficcavo il distintivo Su per il calzo Davvero Ti sembra una signora? Fra vent'anni Forse può chiamarmi signora Cosa? Beh Vent'anni Non direi Attento A me piacciono le signore Ok Argomento chiuso Ci siamo impazziti Quello di cui ti stai preoccupando È che ti ha chiamato signora Ma di cosa stiamo parlando? È stato assolutamente Terrificante Cioè direi Nel senso che è stato Troppo strano ragazzi Troppo strano Non è possibile Qui non c'è nessuno Dopo tutta quella cazzo di strada Max prima diamo un'occhiata Poi saltiamo alle conclusioni C'hai parlato con il signor A Che tu hai solo lasciato un messaggio E cosa cambia? Tutto Cambia che non c'è nessuno E adesso? Ehi là Ma sei matto Non controlla i messaggi E come facevo a saperlo? Questa qua fa troppo la scuola Poi c'è sicuramente qualcuno qui Sì oppure è un'auto abbandonata E stiamo ancora perdendo tempo E che dovrebbe esserci un'auto? Torni in macchina Max Dai Max non fare lo stronzo Lui non deve fare lo stronzo Continua a dire Se il poliziotto aveva insistito Che andassero in un motel Anche se il tipo era strano Un motivo c'era C'è qualcuno? La situazione è comunque È abbastanza assurda ragazzi Che palle Cioè è tutto abbastanza assurdo È stato incredibile Nel senso che poi Cioè nel bosco Non si è capito che cosa ha incontrato Che 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 boh Cioè poi hanno incontrato il Il poliziotto da strapazzo Che di solito Cioè un poliziotto Ti dovrebbe rassicurare Voglio dire se magari Sei in una situazione di pericolo O chissà che roba Invece questo Guarda non vedevo l'ora Che se ne andasse Tra l'altro Qua non vedo una Bene amata ceppa Ho messo la musica A tutto volume Sto genere No non c'è un'anima Non c'è nessuno What the fuck Vabbè Niente Mi sa E penso di non aver saltato nulla Perché ho fatto il giro qua Della Della veranda Quindi Probabilmente Quello che mi resta da fare È scendere di nuovo Quella porta Là in fondo Ve lo dico Non mi ispira Io non entrerò assolutamente Da lì Anche se è chiarissimo Che molto probabilmente È quello che dovremmo fare Ma è fuori questione Ok La casa sull'albero La passeggiata Tra gli alberi Il parcheggio La baia Bla 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 E tutto il resto Appresso Eh quello che non ti uccide Ti fortifica Perché dovrebbe essere Il motto di questo posto Ciò che non ti uccide Ti fortifica Dovrebbe essere Dovrebbe essere incoraggiante Per caso Cioè uno va in un campo estivo Per divertirsi Per fare attività Dell'aperto Non per Per morire Di norma Dico E io mi sto avviando Proprio qui Anche se Avevo detto Che Che non avrei voluto Che non Che non avrei voluto Venire Oddio Regà spero di Che sarò abbastanza brava Nel corso di questa serie Da non ammazzare Tutti i miei personaggi Cosa c'è Cosa è una persona Ehi tu stai bene Era nuda What the fuck Torno subito Vado a cercare aiuto Ma perché Continuiamo a vedere persone Che pare che non stanno bene Che hanno dei problemi Oddio Max Max vieni qui dai C'è qualcuno in cantina Forse è bloccato Non lo so Porta gli attrezzi E rompiamo il lucchetto Buona idea Sono tornata Adesso ti tiriamo fuori Ehi Ehi Ma chi hai portato Non lo so Hai detto attrezzi Perché non hai portato C'è qualcuno Io non vedo nessuno Come no guarda Lo sto facendo giuro Fa vedere C'era davvero qualcuno lì Ok Ok Quindi Io Allora Io senza sapere Cioè io non conosco il posto Non so per quale motivo Una porta a un lucchetto Non è tra l'altro Una mia proprietà Quindi nulla mi dà il diritto Di andare a cambiare la cosa Le cose in una proprietà Quindi Io non vorrei manco Scegliere fra martello e chiave inglesi Vi dico sinceramente Perché c'è Che cazzo De mettere apri così a caso A sfondare un lucchetto Tra i due se devo scegliere Scelgo il martello Però Lo spacco Sicura Farà un sacco di rumore Quindi Devo aiutarlo Siamo Diventati dei missionari Quindi devo aiutarlo Non sa manco cosa crede Di aver visto Ho paura Ho paura ragazzi Davvero paura Potrebbe essere qualsiasi cosa Quella roba Dopo aver visto Windigo In Until Dawn Ma come gli viene in mente Come gli viene in mente Hai visto il film La Casa Eh Eh Oddio Ma mi sta bene in ansia Regà Ma mi sta bene in ansia Sei ferito? Sei reale? Perché lasci il martello? Prendi il martello Ehi Sta attenta Ma perché Perché Ma perché Io le odio profondamente Queste cose Lo sapete Perché lui è rimasto seduto E lei deve andare da sola Addio Addio Ma perché 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 Mi fate Fa queste cose Cioè Vedete Che sono Situazioni Comunque Lo so Che uno dice Un gioco Situazioni surreali Ragazzi Come nel film Nel senso Uno si mette a sfondare Un lucchetto Da una porta Da un posto Che non conosce Nemmeno Perché pensa E non sapete Che cazzo Ha visto Con l'aria Insanguinato C'era scritto Ian Troppo grande Per un cane Poi che razza di cane Si chiamerebbe Ian E appunto What the fuck Oh Dio De Gesù Max Ok C'è 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 Qualcone Max Cazzo Ma T'ho Chiamato Ma cos'è Dio Sui resti Di che E tra l'altro C'è E qui Era qui Quello Lei L'ha strillato Il suo nome Non l'ha sentito Ma che davvero Oddio Raga Non è possibile Forse era uno possumo Qualcos'altro No C'era Davvero qualcuno Qui Ehi Questo si è scippato A minchia Siamo stanchi Non credi Adesso andiamo al motel Torniamo domattina presto E controlliamo tutto meglio Ma Insomma tu non sei esausta Io si Forse le immagini Che cazzo è stato Oddio l'ha credito Max Oddio Oddio Max Sangue Mi sto Dissacuando Aiutalo Probabilmente Non è la scelta Bisogna già Raffare Ma lo posso Lasciar qua Ok E sta scelta Ha avuto Le sue conseguenze Ma lei Non ha fatto Un fiato Cioè Manca a dire Oddio Che è successo No Ma che cazzo Oddio Max Ti prego Dammi una mano Pure te No 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 Questo posto vi sembra il maledetto Arbinger Motel per caso? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501